Buongiorno amiche! Buon sabato! Sono tornata per fare skin care e make up assieme a voi con questa fascetta super colorata, estiva, molto molto allegra nei toni dell'albicocca e dell'arancione. Come sempre, cocona, modi lotatore di sumo, i capelli in faccia ci danno fastidio. Il pensiero carino di oggi è ascoltare. Sì, amiche, anche se io sono sempre qua a cianciarrare, a parlare, vi dico che è molto importante, secondo me, saper ascoltare, perché le persone intorno a noi, gli amici, i parenti, hanno anche bisogno di essere ascoltati. È un dono prezioso da coltivare il saper ascoltare. Aiuta anche stare a ascoltare in silenzio se una persona accanto a noi ha un problema, un dubbio, oppure semplicemente è un po' triste, ha bisogno di sfogarsi. Ed è super consolatorio avere una persona che ci ascolta. Sono molto convinta di questo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per voi è importante essere ascoltati e soprattutto siete dei bravi ascoltatori? Cioè, se qualcuno intorno a voi ha bisogno di essere ascoltato, voi riuscite a dargli un po' del vostro tempo, della vostra attenzione, ascoltarlo e magari anche consolarlo? Sono super curiosa di sapere. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto questo argomento. Amiche, nel frattempo, in un lampo, in super velocità, abbiamo già fatto un bel po' di skin care. Abbiamo passato, massaggiato il tonico, la crema con tornocchi, il siero e la crema viso e la crema anche base make-up. E ora è la volta della crema collo. L'Aptal in collo seno di Bio Apta. Rassodante. È importantissimo rassodare. Come è importantissima anche la crema a mani. Questa è di Vroscede super profumata. Come è anche molto molto profumato e l'olio prodigioso di Nuxe che mi piace e mi rilassa. Ma genipini, brufolini e gli occhiaie da pandina, noi amiche anche oggi contrastiamo i genipini e i brufolini ma con poco prodotto. Perché in estate siamo un po' abbronzate e vogliamo che la nostra bellissima pelle risplenda al meglio e sia molto visibile. Oggi applichiamo una base super leggera e luminosa Bright and Mads di Pupa e solo un po' di correttore. Io sto utilizzando Shiseido in colorazione 104. È un secolo, amiche, che ho questo correttore. Non riuscivo ad aprirlo e ce l'abbiamo fatta insieme. E devo dire che la base con solo un po' di correttore è molto carino. Il fondotinta lo utilizzeremo un altro giorno. E oggi per realizzare questo make-up, che come avete potuto vedere già dal titolo, si chiama Dolly Trend. E consiste nel mettere, applicare tantissimo blush in modo da sembrare una bambolina. Noi applichiamo due blush, l'Extreme Blush di Pupa in colorazione 030, molto pesca, intenso. E l'altro invece è un blush più rosa del mago di Oz. Ma strega comanda color, si amiche, per realizzare il Dolly Trend applichiamo l'ombretto di ben due palettes. Quindi leggero sì, ma in realtà di ombretti ne applichiamo un paio. A tutta palpebra applichiamo il rosa metallizzato contenuto all'interno della Blossom Glow Palette di Catrice e si chiama Magnolia. Poi sfumiamo il marroncino che si chiama Glory & Calm, uno un pochino più scuro, intenso e matto e l'altro più brillantinato. E lo applichiamo anche nella rima inferiore. Sfumiamo il tutto bene 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 e direi che l'effetto è molto molto carino. E nell'angolo interno abbiamo applicato il Soleil, che è un colore dorato della palette Blushing Ocean Pro di Catrice. E l'effetto, secondo me, è leggero. Allora, la caratteristica principale, a mio avviso, amiche, per il Dolly Trend è un make-up sì, leggero, a bambolina, ma con tantissimo mascara. Secondo me, il mascara è il vero protagonista, quasi più del blush. Io non so se riuscirò a vedermi senza la sfumatura nella parte esterna dell'occhio, perché sono abituata sempre a mettere un po' di ombretto nella parte esterna, oppure un po' di eyeliner. Il mascara che stiamo utilizzando oggi è di Catrice e il Maxit, che potevate trovare in omaggio nel giornale in edicola. E l'effetto è molto carino. Nelle labbra applichiamo un pochino di gloss di Deborah Milano. E si chiama Glossy Tube e la colorazione è la 02 Bright Lilac, o Lilac, amiche. La pronuncia io non la zeccherò mai. È molto carino, delicatamente profumato. L'abbiamo unboxato ieri nel giornale Belle Informa. Io sono super contenta. La parola segreta di oggi è Dolly Trend. Mi raccomando, scrivetela nei commenti. Un cuoricino rosa, secondo me è molto carino, con emoji segreto. Io sono super felice. Oggi mi vedo anche troppo naturale. Fatemi sapere cosa ne pensate del make-up di oggi. Spero che vi piacerà. E io sono così un po' confusa, perché è veramente tanto naturale. Per me è molto, molto leggero. Vi mando un bacio grande, grande, grande. Ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti. Ciao, amiche. Buona giornata. A dopo. Fate le brave.